Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetta Online con il nostro ormai consueto topo della settimana numero 3365 Prima di iniziare come sempre vi invito a lasciare mi piace, iscrivervi al nostro canale a entrare nel nostro gruppo Telegram e in generale a fare un salto nella nostra descrizione per vedere anche i nostri link di Amazon affiliati con cui potete sostenerci effettuando i vostri acquisti quotidiani, utilizzando il nostro link a noi arriva una piccola percentuale ma a voi il prezzo ovviamente non cambia Andiamo a vedere, detto questo, le storie di oggi Topolino Giramondo, Topolino nelle 2000 Palme Zio Paperone e il Giro da Capogiro, episodio 2 Le GM in Operazione Alaska, episodio 4 Miau, cronache feline fino all'ultimo dispetto e Zio Paperone e il ritardo marziano, più ovviamente approfondimenti che andremo a vedere dopo La storia migliore, secondo me, è stato il gran finale di Operazione Alaska La storia che, come sappiamo, è di Federico Rossidrighi e di Francesco Di Polito che si merita questa gran menzione e la lasceremo di conseguenza per ultima Andiamo con, invece, la prima storia di questo topo Topolino e le 2000 Palme Storia interamente creata da Giuseppe Zironi con Topolino che sta facendo un grandissimo flashback della sua avventura all'interno del deserto del Sahara per una classe delle elementari o delle medie o comunque una presentazione a scuola che sta mostrando, appunto, questo suo interessantissimo viaggio all'interno del Sahara dove è stato prima ospitato su un camion per prendere un passaggio da un ragazzo che aveva acquistato queste 2000 Palme utilizzate per, a suo dire, salvare il villaggio che gli ha costato tutti i suoi risparmi il tutto accompagnato da tavole molto belle come questa qui che troviamo a pagina 20 con questo piano lunghissimo sul camion dove Topolino si è abbioccato dove si sveglierà solo per la nottata la storia poi si evolverà e vedremo se il nostro protagonista insieme al suo nuovo amico riuscirà a portare le palme a destinazione Zivo Verone e il giro da capogiro secondo episodio Masnadiero Spintone non molla nulla nella storia di Bruno N e Marco Mazzarello ha intenzione di sabotare il team di Paperone dato che i suoi ciclisti non sono proprio i migliori dato che sono riusciti a finire in mare nel frattempo, in preparazione alla dodicesima tappa qui viene fuori, mentre i ciclisti parlano assieme che il gruppo è estremamente superstizioso dato che interessa parecchio agli informatori di Spintone che come vediamo in questa ultima vignetta in basso, una pagina 56 uno di loro ha una buona idea per loro, chiaramente su come fare per intralciarle al meglio fare credere all'intero team che la sorte remi contro di loro andremo poi a vedere se basterà questo a far fallire la tappa tra l'altro numero 13 che si sta per aprire oppure se servirà qualcosa di più Miau, fino all'ultimo, dispetto nella storia di Enrico Faccini evidentemente mi devono aver sentito in redazione che ho detto che le mie storie preferite sono quelle senza testo Malachia, che ha come nuovo ospite un bel pescetto azzurro dalla dentatura affilata si diverte a giocarellarci cercando di mangiarselo però il pesce non si fa prendere tenta addirittura di usare una cannuccia per confonderlo ma il pesce gli fa un dispetto contro e gli soffia l'acqua bagnandolo alla fine, quando Malachia sembra su tutte le furie Paperino entra, passa in mezzo tra loro con Malachia e il pesce che fingono di dormire e poi pernacchia una gigante a chiudere la storia ma che finale meraviglioso è una storia del genere? mi piacciono veramente tanto Zio Paperone e il ritardo marziano Paperone a pranzo dal suo nipotino viene a sapere che la sua spedizione su Marte del rover che ha donato gentilmente alla stazione spaziale paperopolese ha un'interferenza un'interferenza tra l'altro molto importante perché ha smesso di funzionare sta facendo letteralmente quello che gli pare Paperone allora deciso a scoprire cosa sta succedendo si imbarca su una navicella pronto per andare a indagare sul problema del rover e frattempo i bassotti che si accorgono della partenza dello zio decidono di approfittare per rapinarlo ce la faranno questa volta? ho i miei dubbi Paperone intanto sulla navicella in dialezione Marte rivela ai nipotini di sapere la causa del malfunzionamento del robot un programma che lui stesso ha voluto impiantare sul robot per trovare l'oro su Marte il nostro vecchio cilindro perde il pelo ma non è il vizio andiamo all'ultima storia prima di passare le approfondimenti l'EGM in operazione Alaska dobbiamo ammettere che uscirà anche un video relativo a questa storia singolarmente perché comunque si è trattato di un avvento importante col manuale, con il plastico che vedrete sul canale domani insomma anche le storie si sono rivelate molto valide e molto creative l'EGM infatti finalmente siamo al loro giro di boa ce la faranno l'EGM a smascherare il perfido investitore che ha creato questo incredibile pericolo per i bamballocchi? riusciranno i bamballocchi a salvarsi? oppure sarà l'industria e il progresso a trionfare? ciò che è sicuro per adesso è che la squadra non sta reagendo molto bene al cambio di leadership che è passato da qui a qua però questo non deve assolutamente impedire l'EGM di fare il loro dovere forza ragazzi insomma vedremo come andrà a finire e che piano ideeranno per salvare questi uccelli a proposito di uccelli i signori dei laghi abbiamo questo interessante approfondimento su tutti quei volatili quei pennuti che abitano i laghi il Germano Leale look inconfondibile dalla testa color verde smeraldino metallizzato il Martin Pescatore e altri volatili molto noti su cui però è interessante ripercorrere i tratti canonico approfondimento sportivo l'allenatore bambino Julian Nagelsmann infatti allenatore attuale dell'Ipsia a partire dal 2019 dall'estate 2019 è uno degli allenatori più giovani sulla piazza soli 32 anni che per un allenatore è veramente veramente poco tuttavia Norosella della sua giovane età sta dimostrando una gran competenza sul campo dando filo da torsere a tutte le altre squadre tedesche portando l'Ipsia fino in zona Champions uscirà inoltre con il prossimo numero del topo la raccolta di figurine collezionabili adesive di Euro 2020 che è stato come sappiamo posticipato al 2021 ma comunque l'albo uscirà comunque per quest'annata prima di chiudere osserviamo insieme questo approfondimento alla conquista di Marte a cura di Barbara Garufi con le foto della NASA che ci mostra che cosa sta scoprendo il rover Curiosity mandato su Marte qualche anno fa che sta esplorando il pianeta rosso lasciamoci insieme guardando il numero 3366 che vedrà come vi dicevo l'allegato con l'albo delle figurine e vedrà come copertina queste immagini di Paperino prestigiatore che fa sbucare non proprio un coniglio dal cilindro le storie ci sarà il terzo episodio di Leggero da Capogiro Topolino le origini che ritorna inaspettatamente con la disputa della pizza Paperino il tormento musicale storia papera la preistoria Paperino la grande corsa del deserto e Super Pippo Indiana Pips in arachidi e piramidi bene ragazzi il video è finalmente concluso vi ringrazio di averlo visto fino a qui come sempre se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace a condividerlo con tutti i vostri amici fan di Topolino e non solo noi come sempre ci rivediamo ogni settimana di giovedì e il mercoledì con rispettivamente Topo della settimana e live più tutti i nostri appuntamenti sul canale e come sempre vi auguro una buona giornata o una buona serata Grazie a tutti